Tre medici in meno per il pronto soccorso del Sant'Anna e corsa dell'azienda alla sostituzione dei camici bianchi per evitare problemi di carenza di organico, in un momento in cui il reparto di emergenza è alle prese con un sovraffollamento pressoché quotidiano. Dal 1 febbraio, due medici del pronto soccorso del presidio di Sanfermo della Battaglia lasceranno il Sant'Anna per trasferirsi in un altro ospedale. Un problema quello delle continue richieste di spostamenti che ormai da tempo attanaglia la SST Lariana. A questi licenziamenti si aggiungerà anche un'assenza per maternità nello stesso settore. Una situazione difficile, anche alla luce degli accessi record al pronto soccorso, in concomitanza con il picco dell'epidemia influenzale. L'azienda si è subito attivata in previsione dei trasferimenti, fanno sapere dalla SST Lariana. Già entro la metà di febbraio arriverà un medico grazie alla procedura di mobilità. Oltre a questo abbiamo già indetto il concorso di ruolo per un posto a tempo indeterminato per tre medici di pronto soccorso. Il bando scadrà l'8 febbraio prossimo. Naturalmente speriamo di avere adesioni, concludono dalla SST Lariana. Purtroppo ci sono specialisti che non è semplice reperire. Abbiamo pubblicato contemporaneamente anche un altro concorso per un incarico a tempo determinato per la sostituzione maternità. Il superlavoro per i reparti di emergenza del Sant'Anna e di Cantù prosegue ormai da prima di Natale ed è confermato anche dall'occupazione pressoché totale dei 20 posti letto aggiuntivi aperti da questa settimana proprio per far fronte all'emergenza.